buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo di assegnazioni provvisorie daremo delle risposte ad alcune vostre domande domanda numero 1 se chiedo ricongiungimento per il comune x sono obbligato a mettere come prime preferenze le scuole del comune x e lo stesso comune x prima di inserire altri comuni codici e sintetici di altri comuni il docente che aspiri all'assegnazione provvisoria per il ricongiungimento a genitori al coniuge alla parte delle unioni civili al convivente o ai figli dovrà indicare come prima preferenza il comune di ricongiungimento o distretto subcomunale nel caso di grandi città metropolitane oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso nel caso in cui nel comune di ricongiungimento non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune vicinorie oppure una scuola con sede di organico in altro comune anche non vicinorie che abbia però una serie complesso nel comune del ricongiungimento l'indicazione all'interno dell'interno comune o distretto subcomunale di ricongiungimento è obbligatoria anche in caso di comuni dove vi sia una sola istituzione scolastica qualora si intende esprimere preferenze per altro comune domanda numero due quante sono le preferenze esprimibili in caso di assegnazione provvisoria allora per la scuola di secondaria di primo e secondo grado l'aspirante all'assegnazione provvisoria può esprimere al massimo 15 preferenze tra scuole comuni distretti e la provincia nel caso di assegnazione provvisoria interprovinciale per la scuola primaria e per la l'infanzia si possono al massimo esprimere 20 preferenze tra scuole comuni distretti e provincia nel caso di assegnazione provvisoria interprovinciale terza e ultima domanda l'assegnazione provvisoria nel comune di ricongiungimento anche per altre classi di concorso rispetto alla propria classe di concorso di titolarità chiaramente altre classi di concorso in cui si ha l'abilitazione all'insegnamento precede un'assegnazione su classe di concorso di titolarità ma in comune diverso da quello del ricongiungimento ebbene l'assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l'assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto ad altre classi di concorso opposti di grado diversi da quello di appartenenza ovvero sia di titolarità speriamo che queste risposte possano essere molto utili ai nostri telespettatori vi invitiamo a seguirci nei nostri canali social facebook youtube instagram e di seguirci anche sul nostro sito www.tecnicadellascuola.it perché parleremo di utilizzazioni di assegnazioni provvisore ma anche di molto altro ancora arrivederci a tutti alla prossima puntata